Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce se il tifoso Viola Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Ecco i titoli dei quotidiani di oggi sulla Fiorentina La Gazzetta dello Sport Commisso Vicini a Firenze nel mio club 8-10 contagiati Corriere Fiorentino La Carta degli Europei La Nazione Rabbia commisso Ci sono 10 contagiati Corriere dello Sport Stadio Iachini Fiero della Viola Forza e cuore Ce la faremo Incomincia ad esserci in movimento dal punto di vista del mercato in casa Fiorentina Sia per quanto riguarda le entrate Con i Viola che hanno effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Bonaventura Centrocampista del Milan in scadenza di contratto E con il quale il club rosso-nero non ha intenzione di proseguire il proprio rapporto Sia per quanto riguarda le uscite Con la Juventus che è tornata a guardare in casa cigliata Putando gli occhi oltre che sul solito chiesa anche su Gaetano Castrovilli Per Fiorentina1.com Lorenzo Della Giovampaola Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola